Anche la beneficenza finisce sotto processo. E quanto sta accadendo alla Gulliver, Onlus impegnati in una miriade di progetti di solidarietà cittadina e al suo presidente Andrea Boccanera, che ha ricevuto una denuncia dalla ditta Nicoletti per aver gestito una raccolta rifiuti senza autorizzazione. Quelli che l'accusa ritiene rifiuti sarebbero indumenti usati, raccolti attraverso volontari, parrocchie, associazioni e reindirizzati verso i più bisognosi nella cosiddetta giornata del dono risalente al 2020. Indumenti raccolti e destinati in beneficenza che però risulterebbero un mancato guadagno per la ditta Nicoletti, deputata a Pesaro a raccogliere i suddetti abiti fra i cossonetti adibiti a tale scopo e che appunto ha denunciato la Gulliver per presunta gestione non autorizzata dei rifiuti. Ditta che si è costituita parte civile chiedendo un risarcimento danni di 15.000 euro per il dirottamento verso questa giornata del dono. Proprio sulla tipologia di evento, reputato ben diverso da uno smaltimento rifiuti, si è opposta la difesa di Boccanera e della Gulliver andando al processo per ottenere l'assoluzione. La sentenza è prevista per il 22 maggio nel Tribunale di Pesaro.